Sicuramente il problema della resistenza è un problema che è un processo dinamico, è un processo che può avere importanza differente in situazioni differenti e anche per la stessa specie popolazioni diverse possono avere comportamenti radicalmente differenti, quindi questo vuol dire che ciò che vale in una località non necessariamente deve valere in un'altra. Per quanto riguarda la situazione italiana devo dire che sicuramente c'è comunque un grosso punto interrogativo. Abbiamo una situazione ufficiale, questa si può dire ufficiale, questo è un database dell'Arthropod Pesticide Resistant Database mantenuto in collaborazione tra Iraq e alcune realtà americane che raccolgono dati di letteratura, purtroppo questi database raccolgono solo e neppure con grande prontezza quelle che sono le citazioni pubblicate su quella che può essere una letteratura scientifica ufficiale, tant'è vero che questa lista è praticamente identica a quella che è stata presentata due anni fa. Non è poi così vero insomma, le situazioni sono alcune, sono cambiate. Attualmente credo che i maggiori problemi almeno consolidati di un certo impatto li abbiamo per affidi, per aleirodidi, per alcune specie di lepidotteri e per alcune specie di acari. Qui c'è un po' una certa deformazione professionale, io e il mio gruppo lavoriamo principalmente su mezzus persice e negli ultimi due anni abbiamo seguito un po' più da vicino, grazie poi anche al contributo di tanti amici colleghi che hanno inviato materiale al nostro laboratorio, la situazione per quanto riguarda alcune resistenze, in particolare quella in neonicotinoidi. Sicuramente rispetto agli ultimi dati a Iraq pubblicati abbiamo degli aggiornamenti importanti, la resistenza ai neonicotinoidi si è ulteriormente espansa, zone di Roma, la zona di Campania, Napoli, Salerno, Basilicata. È recentemente stato pubblicato un lavoro che indica questa resistenza presente anche in Tunisia, quindi sicuramente presente in Grecia. La resistenza specifica ai neonicotinoidi è in espansione, se ricordate questi sono dati ormai consolidati, le resistenze apportano dei contributi pesanti alla sopravvivenza dell'afide ai neonicotinoidi. Sono presenti comunque anche resistenze di tipo metabolico nelle nostre popolazioni che contribuiscono in maniera significativa alla sopravvivenza delle popolazioni. L'altro aspetto che avevamo già sottolineato è che comunque le nostre, ma in generale le popolazioni di tante specie infestanti, di tante specie che manifestano resistenza, non sono resistenti grazie solo a un meccanismo di resistenza. In realtà ci troviamo spesso e volentieri di fronte a resistenze multiple che comportano problematiche molto più complesse e che per quelli che sono i criteri di gestione che vengono normalmente suggeriti vanno ben oltre quello che può essere la semplice rotazione dei meccanismi d'azione. In tante situazioni la rotazione dei meccanismi d'azione potrebbe non essere la soluzione ottimale. Sono stati fatti in questi ultimi due anni un paio di approfondimenti a livello internazionale, o meglio ne sono stati fatti diversi, ma riporto due che a mio parere sono tra i più significativi. Uno è l'apporto degli eterozigoti per quanto riguarda la resistenza ai neonicotinoidi. Gli eterozigoti svolgono un ruolo fondamentale nelle nostre popolazioni di milzus perché contribuiscono a mantenere la mutazione responsabile della resistenza nelle popolazioni e contribuiscono con il ciclo biologico con la riproduzione sessuale in autunno a ricreare o a creare i ceppi e le popolazioni omozigoti che sono quelle che sono più resistenti. Da un punto di vista immediato la condizione di eterozigoti invece non apporta dei grossi o delle grosse differenze rispetto alla situazione sensibile. L'altro aspetto è un dato molto puntiforme questo, è una ricerca fatta in Francia, evidenzia una cosa, almeno in uno o alcuni dei ceppi che sono resistenti specifici ai neonicotinoidi, oltre agli aspetti di resistenza metabolica di cui vi parlavo prima, ci sono anche resistenze comportamentali. Gli afidi resistenti percepiscono la presenza dell'inseticida, soprattutto a dosi molto basse, e riescono a evitare le zone trattate. È forse uno dei primi casi della resistenza comportamentale, se ne parla spesso a livello molto teorico, ma in realtà sono relativamente pochi lavori fatti in modo scientificamente accurato, che ne dimostrino l'importanza. Ecco, questo è un esempio. Arrivando più nel concreto alle indagini svolte negli ultimi anni, ci fermiamo per quanto riguarda l'individuazione molecolare della resistenza ai neonicotinoidi al 2016. Nel 2017 le popolazioni raccolte sono state pochissime, per cui ho ritenuto opportuno non indicare un dato che sicuramente non ha una grossa valenza statistica, ma è un dato che per molti versi si riavvicina alla condizione che vediamo nel grafico. Le popolazioni omozigoti resistenti sono quelle indicate in rosso. Vedete che c'è una situazione, pur con tutte le cautele del caso legata a una variabilità di campionamento da anno an anno, comunque è una situazione che rispetto agli anni in cui è esploso il problema resistenza ai neonicotinoidi. Si mantiene più o meno costante nel tempo e si dimostra diffusa, si espande sul territorio nazionale. Non è solo un problema di campionamento di aree nuove. Abbiamo ritrovato situazioni di resistenza in aree campionate negli anni precedenti in cui la resistenza non era presente. Aspetto piuttosto importante rispetto alle prime segnalazioni che davano il problema resistenza ai neonicotinoidi limitato esclusivamente al pesco, ecco in realtà questo non è vero, le popolazioni si ritrovano purtroppo tranquillamente anche sugli ospiti secondari. Meno importante da un punto di vista di quelle che sono le strategie di difesa integrata, soprattutto su pesco, dove i piretroidi non sono certamente il prodotto preferito. Però la resistenza ai piretroidi è ampiamente consolidata in Italia, si è avuto una nettissima evoluzione da dieci anni a questa parte e soprattutto sta cambiando lo scenario con l'introduzione di una nuova mutazione che era già stata segnalata due anni fa. È una mutazione che sta prendendo sopravvento sulle popolazioni del nord Europa, dell'Europa centrale. Come già avevamo segnalato si abbina alle mutazioni classiche su questo target, quindi tutto quello che vedete nel grafico indicato come L è la nuova mutazione, che ha degli effetti particolarmente pesanti su vari tipi di piretroidi, sia su piretroidi di tipo 1, sia su piretroidi di tipo 2, tanto per parlarci del lambda celotrina, delta metrina. Sicuramente per quanto riguarda Mizzus azzarderei a tirare un paio di conclusioni che sono, per quanto riguarda la resistenza ai neonicotinoidi, è un'espansione territoriale conclusa, sono più domande che non conclusioni probabilmente. Sicuramente sono cambiate delle strategie di difesa fitosanitaria. Da questo punto di vista le normative europee ci hanno tolto i neonicotinoidi, stanno ulteriormente riducendo la possibilità di utilizzo, però non mi sembra che ci sia stata una reale, completa influenza sul fenomeno. Situazione stabile grave per quanto riguarda i piretroidi e sicuramente l'apporto delle resistenze metaboliche per le quali, devo dire, al momento non abbiamo ancora sistemi di diagnosi abbastanza accurati, sono qualcosa di abbastanza preoccupante. Per quanto riguarda gli afidi vorrei indicare un paio di altre specie con segnalazioni che, almeno per quanto riguarda l'Italia, non hanno però conferme di ricerca specifiche. Un eriosoma lanigerum, prima Tiziano citava situazioni particolarmente importanti in alcune aree dell'Emilia Romagna. Sicuramente nel Ravennate, negli ultimi anni si erano verificati problemi di contenimento con la strategia classica basata su Spirotetramat e Pirimicarb, il cambio di strategia sembra aver risolto il problema. È vera resistenza? Non lo so, forse no, sicuramente non ci sono altre segnalazioni nella territoria scientifica internazionale. Più complessa e più seria è la situazione dell'afide del cotone, l'afis gossipi. Periodicamente ritornano situazioni di mancata efficacia, mancato contenimento. È sicuramente in tante situazioni una specie difficile da colpire, quindi sarei quasi propenso che tante segnalazioni di presunta resistenza possano essere anche legate a distribuzioni non accurate di prodotti o fatti in maniera non tempestiva. Sicuramente è un argomento che vale la pena di indagare, su cui stiamo indagando anche in questi ultimi tempi, anche se non abbiamo ancora dati conclusivi o dati particolarmente importanti. Sicuramente abbiamo molte segnalazioni a livello internazionale di resistenza confermata. Questa specie condivide molti dei meccanismi di resistenza che abbiamo visto e che conosciamo per Mizzus Persice. Abbiamo resistenze metaboliche target site ai piretroidi. Sono state segnalate resistenze ai neonicotinoidi e anche alle sulfoximine, sia target site che metaboliche. C'è una selenazione non ben documentata, una situazione un pochettino strana, non così chiara, di possibile resistenza al flonicamide in Corea. La resistenza di metilcarabammati è ampiamente nota e ampiamente diffusa. A livello di laboratorio, questo è un lavoro uscito negli ultimi mesi dell'anno scorso, studi di laboratorio indicano che sarebbero possibili per Afis Gossipi anche specifiche resistenze verso il gruppo dello spiro tetramat, eccetera. Parliamo però solo di selezione di laboratorio, quindi non condizioni di campo. La situazione è stata trovata in una condizione diciamo estrema. Passando ad altre specie, gli aleirodidi, la situazione è piuttosto critica, sicuramente le resistenze sono molto diffuse, abbiamo in genere molte difficoltà di controllo. Dai dati scientifici che abbiamo sappiamo che esistono resistenze target site ai piretroidi e che le resistenze metaboliche sono ampiamente diffuse. Il grafico si riferisce a risultati sperimentali di un recente progetto europeo che ha studiato l'uso e la specificità di diversi prodotti sinergici. Ecco, su alcune popolazioni di bemisi a tabaci, particolarmente resistenti in condizioni di campo, alcuni prodotti sinergici specifici per le monossigenasi, per le P450, hanno dimostrato un notevole livello di efficacia. Altro, diciamo, primato, parte tutto italiano e greco è quello della tuta absoluta e della resistenza tuta absoluta. Due anni fa riportavo questo lavoro, la prima segnalazione di resistenza alle diamidi in tuta absoluta. La situazione, se vogliamo, è purtroppo ulteriormente aggravata. Tra Italia e Grecia sono riportati, documentati, casi di resistenza alle avermectine, ai piretroidi, alla benzoiluree, alle diamidi. Sulle diamidi abbiamo segnalazioni anche in Medio Oriente, anche in Israele. L'indoxacarb e, almeno per quanto riguarda il Brasile, esistono anche delle segnalazioni relativamente alle spinosine. Alcuni problemi emergenti, ci sono stati alcune diciamo rumors di problematiche legate a Ostrinia Nubilalis, sicuramente in Francia è stata dimostrata e evidenziata la resistenza ai piretroidi, basata sia su resistenze metaboliche che sulla classica resistenza target site indicata al KDR. Passando a un altro gruppo, che è quello dei ragnetti, dei tetranichidi, nell'ambito di un progetto finanziato dalla regione Emilia Romagna, nell'ambito del programma PSR 2014-2020, ci stiamo occupando della situazione molto critica in alcuni distretti della provincia di Piacenza per quanto riguarda tetranicus urtice. A questo proposito si ipotizzava anche il fatto che in realtà potesse non trattarsi di tetranicus urtice ma di un'altra specie già ampiamente segnalata, fortemente invasiva, con grossi problemi di resistenza anche questa che è tetranicus evansi. In realtà, almeno per quanto riguarda le analisi molecolari, ci indicano che le popolazioni che sono presenti nei nostri areali sono esclusivamente tetranicus urtice. Sono stati condotti al momento semplicemente dei biosaggi con una dose discriminante, basando su dei dati ottenuti dalla letteratura, perché è estremamente difficile avere delle popolazioni veramente sensibili di tetranicus urtice, impiegando prevalentemente due adulticidi, abamectina e bifenazzate. Ecco, questa è la situazione per quanto riguarda abamectina. I dosaggi usati sono dosaggi prossimi a una mortalità totale del 90-95% in condizioni di laboratorio e come vedete abbiamo alcune situazioni dove l'abamectina riscontra dei gravissimi problemi. Situazione forse anche peggiore per quanto riguarda il bifenazzate. Non rimanete ingannati dall'altezza delle barre. I dosaggi usati nel caso del bifenazzate sono la dose di campo e il doppio della dose di campo. Quindi dosi decisamente più elevate rispetto a quelle che l'accaro potrebbe incontrare in condizioni reali di campo. Quindi per quanto riguarda tetranicus urtice sicuramente i dati sono ancora parziali, stiamo lavorando, lavoreremo nei prossimi due anni ancora a questo progetto. Sicuramente bifenazzate, almeno da questi dati preliminari, sembra piuttosto compromesso. Abbiamo necessità di valutare un numero maggiore di casi e anche chiaramente di capire quali sono meccanismi coinvolti. Non ci basta sapere l'accaro è resistente, non è resistente, ma perché è resistente. Alcuni colleghi dell'Università di Reggio Emilia e Modena stanno lavorando sulla parte genetica per capire quali mutazioni sono presenti. Arrivando a una conclusione generale direi che io riscontro alcuni problemi, ho alcune domande. Sicuramente abbiamo informazioni purtroppo molto frammentarie. Spesso si tende ad identificare come problemi di resistenza casi di mancata efficacia o mancata distribuzione di trattamenti sbagliati. Sicuramente però c'è un problema di fondo. Stiamo sempre aspettando le crisi, tipo il problema neonicotinoidi 2011-2012. Vogliamo eventualmente alzare il livello d'attenzione. Ci sono competenze, questo potrebbe sembrare un po' un aspetto pubblicitario, ma direi che non solo l'Istituto di Entomologia di Piacenza lavora in questa direzione. A livello italiano abbiamo sicuramente le competenze per affrontare il problema. Quindi anche chi indaga, spesso lavoriamo su basi del tutto volontaristiche. Mi rendo conto che è un argomento delicato. Il rischio di generare falsi allarmismi o di per forza inseguire, questa è una critica che faccio soprattutto a me e ai miei colleghi, la pubblicazione, perché siamo sempre più spinti a pubblicare. Il rischio di creare degli allarmismi strani o non corretti sicuramente esiste. L'ultimo aspetto è che dobbiamo migliorare l'efficienza della diagnostica. Alcune di queste operazioni sono ancora troppo lente, sono ancora troppo costose e dobbiamo fare un grosso sforzo in questa direzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.